Un investimento di oltre 20 milioni di euro per un ampliamento della sede industriale di Walter Tosso per il nuovo progetto VTS. Il Comune ha avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda perché ha agevolato lo sblocco di procedimenti burocratici. Non appena insediato da assessore alle attività produttive, conoscendo le priorità che deve avere un'amministrazione e soprattutto che l'ambizione deve avere una città per far ripartire la propria economia e l'occupazione, ho preso tutti i fascicoli che trovavano giacimento sopra scrivanie, aspettavano solo e esclusivamente polvere e li ho affrontati direttamente, di cui dopo 12 anni abbiamo risolto il problema dell'ex burgo con un permesso a costruire che abbiamo rilasciato nei giorni scorsi per un'operazione molto importante da svariate decine di milioni di euro con una ricaduta occupazionale molto importante e la stessa cosa abbiamo fatto ieri l'altro con la Walter Tosto, che è un'azienda leader della città di carattere internazionale. È un investimento da oltre 20 milioni di euro, il VT7 sarà il padiglione, l'opificio più importante di tutto il gruppo Tosto, ci saranno benefici diretti per l'economia locale e non solo, tutto l'indotto che si creerà con una ricaduta occupazionale molto significativa. Grazie.